Denuncia per false autocertificazioni, ennesima truffa scoperta dalla Guardia di Finanza all'Adila. McDonald apre a D'Avezzano, a breve le selezioni per l'assunzione di personale. Riancio della Valle Peligna, le proposte avanzate dalla Confesercente. Ripresa economica in Marsica, incontro promosso dal consigliere regionale Berardinetti nella sala Ex-Alsa. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In apertura di giornale, un'ennesima truffa scoperta dalla Guardia di Finanza nel contesto della ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Infatti, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria del posto hanno deferito alla locale autorità giudiziaria il rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009 che attraverso due false autocertificazioni attestanti l'avvenuto pagamento di un subappaltatore aveva ottenuto indebitamente il pagamento di due saldi per un importo totale di oltre 350 mila euro. L'imprenditore è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di 14 mila euro somma corrispondente all'importo della fattura non pagata all'impresa subappaltatrice pur avendo quest'ultima regolarmente svolto e concluso i lavori ad essa affidati. L'attività di servizio si inquadra in un più ampio contesto investigativo che vede le fame gialle coordinate dal pool di magistrati operanti presso la Procura della Repubblica nell'ambito del progetto CRASI, cioè Centro di Raccordo, Analisi e Sviluppo Informativo impegnati già da tempo in mirati accertamenti volti alla verifica della autenticità delle autocertificazioni prodotte dagli affidatari dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma circa l'avvenuto pagamento dei subappaltatori o dei fornitori. Nel momento di crisi occupazionale che interessa tutto il territorio non solo marsicano una buona notizia viene da McDonald che apre un nuovo ristorante ad Arezzano e cerca 32 persone. Da oggi sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno a McItalia Job Tour, l'evento itinerante di selezione del personale impiegato per le nuove aperture McDonald lungo la penisola. Il McItalia Job Tour fa tappa nelle città sedi dei nuovi McDonald e dà la possibilità di partecipare alle selezioni per diventare parte integrante del team di lavoro e gestione del nuovo ristorante e di avere l'opportunità di lavorare in un contesto dinamico, giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Entro il 27 ottobre i candidati interessati a lavorare nel nuovo McDonald potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito mcdonald.it rispondendo ad alcune domande, disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, aree geografiche di interesse ed inserendo il proprio curriculum vitae. Ai candidati idoni verrà richiesta la compilazione di un test volto ad individuare le aree comportamentali di forza dei candidati. Gli stessi candidati che supereranno il test verranno contattati da McDonald's e riceveranno una convocazione con data ed orario ed avranno accesso ai colloqui individuali. Per la nuova apertura di Avezzano, McDonald's, come c'è detto, cerca 32 persone. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avezzano l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova sportiva relativa al concorso corso pubblico per esami per la formazione di una gradatoria da utilizzare per le assunzioni di agenti di polizia locale emanato dal Comune di Avezzano. Lo comunica l'assessore con delega alla gestione delle risorse umane Alessandra Cerone che spiega che il sindaco Giovanni Pangrazio ha avuto mandato dall'Assemblea dei sindaci della Marsica di attivare il corso concorso impegnando così i dipendenti e le competenze di Avezzano in considerazione della carenza di personale negli enti locali ormai drammaticamente cronica e nella consapevolezza che solo facendo squadra la Marsica potrà al meglio contribuire al benessere dei propri cittadini. La procedura selettiva interesserà oltre 400 candidati e dalla gradatoria che andrà a formarsi potranno attingere anche altri comuni. La nostra iniziativa è particolarmente rilevante per il supporto che darà agli uffici della polizia locale degli enti interessati che in alcuni casi sono costretti ad attingere persino a gradatorie delle regioni limitrofe ma anche per la ricaduta occupazionale. Infatti l'adesione è stata notevole. Per lo svolgimento della prova sportiva tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno 24 ottobre alle ore 9 presso lo stadio di Pini di Avezzano naturalmente ingresso a piscina comunale. Il Ministero per dello sviluppo economico con proprio decreto del 4 agosto scorso ha disciplinato le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi per le situazioni di crisi industriale non complessa che presentano comunque impatto significativo sullo sviluppo e l'occupazione nei territori interessati. Le regioni propongono l'elenco dei sistemi locali del lavoro da candidare alle agevolazioni individuate sulla base dei seguenti indicatori ISTAT. Specializzazione produttiva prevalente, combinazione del tasso di occupazione e disoccupazione 2014, variazione occupazione e disoccupazione rispetto alla media 2008-2014, produttività del lavoro 2012. Le proposte dovrebbero essere inviati dalle regioni entro il 3 novembre 2016. Nei 30 giorni successivi il Ministero, accertata la regolarità formale delle proposte trasmesse dalle regioni, pubblica l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e definisce i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. Secondo la confeserciente della provincia dell'Aquila, sede di Sulmona, a questo intervento deve essere agganciato il rilancio della Valle Perigna e dell'Alto Sangro, che da un lato compenserebbe ampiamente la parziale o mancata zonizzazione della misura ex 107.3c, dall'altra attiverebbe canali di contrattazione programmata utile alle politiche di sviluppo produttivo ed industriale nel territorio di riferimento. La confeserciente, pertanto, oggi lancia un appello alla Giunta regionale affinché confermi l'inserimento del territorio tra le aree di crisi da finanziare per il riancio economico e produttivo, effettivo e durevole. Per la confeserciente è necessaria ed urgente la riattivazione delle tavole per il rilancio della Valle Perigna, con il coinvolgimento delle associazioni delle imprese e dei rappresentanti istituzionali. Il Comune di San Vincenzo Valleroeto ha aderito ufficialmente alla Marcia della Pace e della Fraternità Perugia Assisi. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha inteso promuovere la partecipazione dei cittadini a questa iniziativa in programma domenica 9 ottobre. La partenza dell'autobus da San Vincenzo Valleroeto è prevista per le ore 5. La quota di partecipazione, comunque contenuta a carico di ciascun partecipante, sarà determinata in base al numero complessivo degli aderenti. I partecipanti potranno marciare da Perugia ad Assisi, circa 24 km, o attendere l'arrivo della marcia a Santa Maria degli Angeli per poi effettuare l'ultimo tratto del percorso di circa 5 km. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l'ufficio protocollo del Comune di San Vincenzo Valleroeto. Questo incontro è la naturale prosecuzione di una politica che vuole garantire al territorio marsicano la giusta attenzione. Un modo per favorire la ripresa economica e per indurre le imprese a fare investimenti, invertendo il trend negativo per essere più competitive e creare nuovi posti di lavoro. È quanto affermato dal Presidente della Commissione di Sviluppo Economico e Attività Produttive, Lorenzo Berardinetti, aprendo il forum di Avezzano, nella sede Xarza, sulle strategie industriali per la programmazione 2014-2020, nonché sui nuovi bandi per la ricerca e lo sviluppo delle imprese. La Marsica, ha dichiarato il Berardinetti, rappresenta un territorio a forte vocazione produttiva e con realtà aziendali con una energica vitalità che hanno interesse ad aumentare la loro produttività. Ci sono inoltre concrete possibilità di nuovi insediamenti imprenditoriali con conseguenti riscontri positivi in termini di crescita occupazionale. Il mio intento, da sempre, è stato quello di rilanciare le attività industriali dell'intero territorio marsicano. Berardinetti ha annunciato inoltre che il decreto ministeriale, con il quale la Marsica è riconosciuta tra le aree di crisi, è stato pubblicato il 4 ottobre e questo consente alle nostre aziende di beneficiare di finanziamenti ad hoc. Nel corso del dibattito è intervenuto il vicepresidente dell'Aggiunta regionale Giovanni Lolli. Mi preme sottolineare che, grazie all'azione di stimolo del consigliere Lorenzo Berardinetti, l'Aggiunta regionale ha rivolto grande attenzione alle esigenze del territorio marsicano. Attualmente stiamo predisponendo tre bandi sulla ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale. Dati alla mano, ha aggiunto Lolli, ad oggi sono stati finanziati progetti seri ed innovativi presentati da aziende marsicane a dimostrazione del fatto che il tessuto imprenditoriale di questa zona è vivo e funzionante. A pochi giorni dalla dolorosa perdita del senatore Marco Conti ci ha lasciato un'altra preziosa personalità della politica abruzzese. Si è spento infatti Corradina Di Stefano, già senatore della Repubblica, abruzzese di Castelli. È scomparso da 85 anni nella sua casa, nel paese che tanto amava e di cui era stato sindaco, dal 64 al 90 per cinque mandati. Prima consigliere comunale, poi sindaco, presidente della comunità montana, componente degli organismi dirigenti della democrazia cristiana e poi senatore per tre mandati dall'84 al 92 con incarichi nelle commissioni di lavoro, giustizia e procedimenti d'accusa. Una persona speciale con grandi qualità umane e professionali, lo ha detto nell'aula del senato la senatrice del PD Stefania Pezzopane. Amava la sua terra in maniera genuina, direi viscerale. La sua Castelli, le ceramiche, i monumenti e le piccole economie locali erano argomento di azioni e battaglie politiche per il lavoro e lo sviluppo della mezzogiorna. Il museo delle ceramiche di Castelli, il villaggio economico, la mostra da mercato portano la sua firma. Alla sua famiglia, a cui era legatissimo, vanno le nostre sentite condoglianze. Workshop sul piano regionale per il sociale, strumento di programmazione innovativo che riguarda e guarda alle esigenze dei cittadini. Il sociale torna ad essere una priorità in Abruzzo, grazie al piano regionale 2016-2018, che rappresenta uno strumento di programmazione innovativo e più vicino alle esigenze dell'utenza. La grande novità è rappresentata dall'integrazione sociosanitaria che consente di passare dai 35 ambiti sociali esistenti in precedenza ai 24 ambiti distrettuali, ma anche l'istituto dell'accreditamento delle strutture finora necessario in ambito sanitario costituisce un cambio di passo rispetto al passato. Questa mattina a Pescara l'assessore al sociale Marinella Sclocco e l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci hanno fatto il punto della situazione, insieme ad esperti del settore, nel corso di un workshop che si è tenuto a Pescara alla presenza del ministro delle politiche sociali Giuliano Poletti, il cui intervento ha concluso l'evento. Si aggira sui 200 milioni di euro il profond di risorse a disposizione all'interno del piano sociale abruzzese nel triennio 2016-2018, mentre ulteriori 30 milioni sono destinati al piano operativo per il Fondo Sociale Europeo. Si tratta di una evoluzione-rivoluzione, ha osservato Marinella Sclocco, che ci consente di recuperare un gap di 20 anni di ritardo. È infatti un piano che guarda la persona che viene presa in carico nella sua totalità. Ora il nostro compito, ha aggiunto, è quello di far conoscere al meglio questo importante strumento affinché che venga applicato su tutto il territorio. Non è un caso, ha riferito l'assessore, che i 305 comuni abruzzesi e i 24 distretti abbiano iniziato a lavorare insieme per scrivere i propri piani sociali distrettuali. Sempre per il sociale, ha ricordato l'assessore, posso assicurare che ancora aperto il bando Abruzzo include, la cui data di scadenza sarà prorogata per consentire il completamento del lavoro necessario per far coincidere gli ambiti. Riguardo infine al Fondo per la lotta alla povertà, per il quale il Governo ha stanziato quasi un miliardo di euro, per l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, che ha condiviso tutta la fase di gestione del nuovo piano sociale regionale con l'assessore Sclocco. Il tema chiave della programmazione sanitaria e socio-sanitaria del futuro è quello dell'emergenza, della presa in carico dei cronici, dei non autosufficienti e dei fragili. L'altro grande tema, aggiunto, è quello degli operatori e nello specifico della formazione in campo sanitario. Infatti, un conto è la sanità erogata, un conto sono quindi le prestazioni in senso stretto ed un conto riuscire a garantire i livelli assistenziali. A riguardo abbiamo le dichiarazioni dell'assessore sociale Marinella Sclocco. Assessore Sclocco, il sociale torna a crescere. Un workshop a Pescara, impreziosito dalla presenza del Ministro Poletti, una presenza significativa appunto alla luce del nuovo piano sociale regionale. La presenza del Ministro Poletti esprime naturalmente vicinanza e apprezzamento per il lavoro che stiamo facendo in Abruzzo sulle politiche sociali e apre la terza fase, cioè quella dell'attuazione. Dopo le linee guida, dopo la partecipazione, la co-costruzione del piano, oggi parte la fase dell'attuazione, quindi sul territorio. Il piano è un piano che cambia radicalmente le regole del sociale in Abruzzo. Di fatto ci sarà una coincidenza degli ambiti e dei distretti, quindi avremo non più 35 ambiti sociali, ma 24 ambiti distrettuali sociali. Ci sarà un'unica programmazione di tutti i fondi che metteremo a disposizione. Abbiamo calcolato di mettere a disposizione tra fondi regionali e fondi statali 200 milioni di euro in tre anni. L'assessore Paolucci ha detto che aumenterà infatti il fondo per le politiche sociali. Un altro concetto è il concetto dell'accreditamento, quindi avremo servizi sociali accreditati, che garantiranno qualità ai cittadini, ma anche il lavoro ai professionisti e quindi le competenze a chi ha studiato per svolgere questo lavoro. È un cambiamento necessario, è stato un cambiamento necessario perché per vent'anni nessun cambiamento si era fatto in Abruzzo in tema di politiche sociali, parlo nella programmazione, quindi era necessario altrimenti la regressione. Un percorso condiviso, un percorso lungo, ha fatto un anno e mezzo, però condiviso, partecipato, ha portato dei risultati. Adesso la fase attuativa è fondamentale anche nel Comitato dei Comuni. Sì, molto partecipato. Questa mattina c'erano circa 1300 persone al Cinema Massimo, il che appunto sta a significare davvero il grande entusiasmo. Adesso la fase forse più difficile, quella di attuazione, già i Comuni insieme alle ASL si stanno vedendo in questi giorni proprio per cercare di scrivere insieme un piano che prenda in carico la persona nella sua totalità, sia degli aspetti sociali che sanitari. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani ed assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale. Tra gli otto inceneritori pianificati ne viene previsto uno anche per l'Abruzzo. Il Governo, nonostante l'opposizione delle associazioni ambientaliste, delle comunità locali e di gran parte delle regioni, insiste nella previsione di nuovi inceneritori, anche se è stato ampiamente dimostrato, basandosi sui dati ufficiali dell'ISPRA, che il numero di impianti presenti attualmente in Italia è più che sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale. Grave anche la volontà del Governo di non sottoporre il piano inceneritori ad una preventiva valutazione di impatto ambientale strategica. Aver mantenuto la previsione di un inceneritore in Abruzzo, dichiara Luciano Di Tizio, delegato regionale del WWF, dimostra l'assoluto disinteresse del Governo per le volontà locali. La Regione Abruzzo ha già ribadito la propria opposizione ad un inceneritore sul proprio territorio, dimostrando come non sia necessario prevedere un impianto del genere. Lo stesso hanno fatto tante altre regioni, raccogliendo le osservazioni delle associazioni ambientaliste. L'attività micologica del GEMA, Gruppo Ecologico Micologico Abruzzese, sezione Marsicana di Avezzano, prevede tre ravvicinati ed importanti appuntamenti. Un convegno internazionale a Dovindoli, iniziato oggi, che si conclude domenica prossima, la mostra micologica nei giorni 15 e 16 ed un corso di formazione micologica per il rilascio dell'autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi epigei in Abruzzo. Il convegno, organizzato oggi a Dovindoli, taxa e cenosi fungini nell'area del Mediterraneo, tratta la tassonomia e caratterizzazione di entità e di comunità micologiche, inclusi licheni e micorrize rinvenibili nell'area Mediterranea. Numerosi esperti, almeno una quarantina, provenienti da molte regioni italiane ed anche dall'estero, per tre giorni si recrano nei boschi e nei prati che ricadono nel territorio del parco regionale Sirente-Venino per raccogliere, studiare e censire le specie di funghi raccolte. Nei giorni 15 e 16, invece, è in programma la 37esima mostra micologica nell'arena Mazzini in via Corradini. Per l'occasione, gli appassionati avranno la possibilità di vedere da vicino non meno di 200 specie di funghi, tra quelli commestibili, tossici e mortali, e chiedere spiegazioni agli esperti del GEMA. Infine, da segnalare l'inizio del corso di formazione micologica, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per poter praticare la raccolta dei funghi previsto per il 17 o il 19 di questo mese, che loro che sono interessati a frequentare il corso possono recarsi nella sede di via Buonarroti ad Avezzano. È in programma per domani, venerdì, alle ore 18.30, nel Castello Orsini di Avezzano, la serata di poesia su testi tratti da opere dell'autore avezzanese Giacomo Proietti. L'evento, patrocinato dal Comune di Avezzano, con l'adesione delle associazioni teatrani marsicane, la Proloco Cittadina e la Fondazione Giano, è finalizzato alla raccolta fondi da devolvere interamente a favore dei bambini di amatrice e zone nemitrofe, in particolare per la ricostruzione delle scuole primarie. Le opere del poeta accompagneranno i convenuti in un emozionante viaggio attraverso l'anima mundi percepita dall'autore, che la declina nelle liriche e nelle composizioni legate alla terra, alle tradizioni e alle figure familiari. Un piccolo mondo antico che dedica in questa speciale serata ai bambini colpiti dal sisma e privati di punti di riferimento e di quella quotidianità essenziale e rassicurante. Lo stesso sisma e le sofferenze del corpo e dell'anima che ha provocato sono al centro di alcune delle composizioni. Sono circa 2.200 gli utenti che si sono rivolti all'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico regionale, nel corso del suo primo anno di vita per avere informazioni sull'attività della giunta o per comunicare con le strutture interessate dalle richieste. Il sito web URP, i cui contenuti sono stati redatti con un linguaggio semplice, chiaro e diretto, ha visto crescere gli accessi da 352 del mese di settembre 2015 a circa 53.000 nel mese di settembre 2016, a dimostrazione del fatto che gli utenti apprezzano un accesso diretto a informazioni depurate da tecnicismi e dei termini burocratici tipici del linguaggio amministrativo. L'età media dei richiedenti è compresa tra i 25 e i 44 anni. Il mezzo di contratto preferito dall'utenza è stato il telefono a cui la regione ha dedicato 5 linee telefoniche seguito dalla posta elettronica. Altro mezzo di contatto molto utilizzato è stato il forum online grazie al quale l'utente può inserire i propri dati ed il testo della richiesta. Gli argomenti di maggior interesse per l'utenza hanno riguardato i bandi per aprire nuove attività, le possibilità di lavoro per i disoccupati e gli inoccupati, le agevolazioni per le categorie svantaggiate, i fondi provenienti dall'Unione Europea e i corsi di formazione. La comunicazione al cittadino della regione Abruzzo è ormai una realtà, dichiara la direttrice generale Cristina Gerardis. Ad un anno di distanza dalla sua Costituzione, l'URP tira le somme del lavoro svolto e pubblica i risultati ottenuti. In un solo anno abbiamo recuperato il gap creatosi nel passato a causa dell'assenza di una struttura dedicata proprio a questo scopo. Ora spazio al calcio eccellenza. È terminato con la vittoria del Paterno per 1-0 sul campo del Capistrello l'atteso derby marsicano. Gara interessante ed equilibrata che ha interrotto la serie positiva dei rovetani. Vediamo il servizio. Gli invincibili contro Dottor Jekyll e Mister Hyde. Echi vagamente hollywoodiani al comunale di Capistrello per un derby molto sentito perché snodo per ambizioni nemmeno troppo celate. Cinefidi improvvisati per dire che il Capistrello è ancora imbattuto mentre il Paterno cambia pelle in peggio appena si allontana dallo stadio di Marsi. Che partita sarà? Una cosa appare chiara. I paternesi abbigliando il loro estremo di bianco-verde sperano che eventuali marcature subite finiscano nel carniere dei cugini avezzanesi. Scherzi a parte, il match si presenta ricco di spunti e di alto livello sin da subito. Godibile, teso, ma dai ritmi blandi. Primo squillo granata già al secondo minuto quando Mauti calcia potente ma non preciso e così sfuma il tiro di punizione. Sei minuti e il Paterno prova ad alleggerire con Crass che apre troppo il compasso, vanificando il tutto. Ancora ospiti protagonisti al decimo con la selva che dà una certa profondità alla manovra ma poi va a sbattere contro i guantoni di Cattafesta in senso figurato ovviamente. 25esimo, ancora la selva che si sgancia, arriva in posizione di sparo ma viene rimpallato. Mezz'ora sale il Paterno, si sveglia Leccese che mostra tutto il proprio talento ma Cattafesta risponde da par suo. Il gol è nell'aria e arriva due minuti più tardi quando l'estremo Palentino tarpa di nuovo le ali a Leccese ma questa volta c'è Crass a sparigliare siglando la rete del vantaggio nerazzurro. I Granata provano un'immediata reazione e al 35esimo recriminano con i centimetri quando Lepre e Dema si trovano a meraviglia ma oltre la linea dei difensori paternesi. Si pario sul primo tempo e ripresa che fatica a decollare tanto che le prime tracce di vita sportiva si mostrano al 22esimo con questa interurbana di Bolzan. Nerazzurri che mettono in ghiaccio il match, ghiaccio bollente ma pur sempre ghiaccio che il capistrello proprio non riesce a sciogliere e anzi al 92esimo un fraseggio nella pampa fra Leccese e Bolzan vede quest'ultimo sfiorare la trasversale. Ma la sostanza non cambia, a rincorrere la vetta sarà il paterno. Per il capistrello invece la casella delle sconfitte da stasera non è più in tonza. La partita con un Fabio Iodice è ovviamente soddisfatto? Sì, sono soddisfatto per la prestazione della squadra perché venire qua a capistrello e vincere a capistrello non è facile perché questo è un campo difficile contro una squadra forte. Per me Capistrello sicuramente sarà una squadra che lotterà sicuramente per i quartieri alti. Quindi sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon primo tempo dove potevamo chiudere la partita. Poi il secondo tempo è stata una partita equilibrata, è stata più tattica, è stata combattuta a centrocampo e alla fine l'abbiamo spuntata noi, penso pure mereditamente. Chiave tattica probabilmente è giustissima, la differenza sta proprio a centrocampo, c'è più fosforo nel paterno? Sicuramente, noi in mezzo al campo abbiamo un giocatore di qualità, quindi è normale che quando hai un giocatore di qualità sicuramente qualcosa in più, però pure il Capistrello ha fatto una grossa partita, quindi ecco perché sono soddisfatto, vincere qua a Capistrello non era facile. Meglio affrontarla adesso o dopo? Le squadre dobbiamo affrontarle tutte, quindi prima o poi bisogna sempre affrontarle, però ripeto, sono contento perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo preparato durante la settimana e alla fine credo che l'abbiamo, penso che il risultato sia stato meritato. Ad oggi era emerso anche per una serie di circostanze un paterno parecchio casalingo, iniziamo ad allontanarci allora da Rizzano? Sicuramente, perché veniamo da due sconvitte fuori casa, però poi se andiamo a analizzare le partite fuori casa, a parte il risultato che giustamente abbiamo perso, però credo che a Martinsicuro abbiamo fatto una partita che è stata equilibrata nei 60 minuti, poi abbiamo regalato due gol noi, a Teramo credo che non ci sia stata partita per quanto riguarda il gioco, abbiamo creato 7-8 palle gol, poi però per un tiro in porta prendi gol e prendi la partita, quindi ero dispiaciuto per il risultato a Teramo, ma soddisfatto per la prestazione perché ho visto la squadra che comunque ci stava e penso che lo stiamo dimostrando tutt'ora. Fabio, i valori si stanno delineando ovviamente, scegli di arrivare ufficiale una sola? Lo dicevo adesso dentro i spogliatoi ai ragazzi, questo è un campionato che non puoi dire una rivale perché giustamente mi viene in mente Francavilla, ma a parte Francavilla Capistrello, Gupello, Martinsicuro, San Salvo, Angolana, San Buceto. Allora mettiamola così, chi temi di più? Ma noi stessi, se noi giochiamo da squadra come abbiamo fatto oggi ci possiamo levare qualche soddisfazione. Qual è il vostro limite di testa? Una squadra troppo di Serie D per stare in eccellenza? Sicuramente all'inizio abbiamo peccato su questo, però pian piano i ragazzi stanno capendo che il campionato in eccellenza è difficile, quindi deve lottare su tutti i campi, quindi per vincere le partite ci deve mettere il cuore come è successo oggi. Prossimo turno contro Angolana? Angolana in casa, sì. E' una partita anche quella delicata? Sì, ma lo dicevo prima, in eccellenza partite facili non ci stanno, quindi da domenica troveremo un'angolana che secondo me, l'angolana pure sulla carta è una squadra forte, sta trovando qualche difficoltà all'inizio, però sicuramente c'ha dei valori importanti. Davo partita con il bomber Ilario Levre, oggi dalle polveri bagnate, ma insomma diciamo che gli spunti positivi non mancano per la vostra stagione. Sì, no, è stata una partita equilibrata, purtroppo è stata decisa da un episodio a loro favore, andiamo avanti e lavoriamo per la nostra strada, complimenti a loro per la partita vinta, pensiamo a noi, pensiamo con la testa già domenica prossima e va bene, bisogna lavorare per migliorarsi, quindi va bene, purtroppo. Era un match per misurare un po' le vostre forze e le vostre ambizioni, ecco perché il Paterno, come dire, non è l'ultima arrivata. Questa sconfitta cosa significa al di là degli episodi? Vabbè, significa che complimenti a loro che si è stati più bravi di noi a concretizzare l'occasione avuta. Noi dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare se vogliamo aspirare a qualcosa di importante, però testa bassa e secondo me dobbiamo migliorarci ancora parecchio, quindi per fare qualcosa di grande bisogna solo con il lavoro e poi vediamo. Ilario, se parliamo di lotta, ovviamente tu puoi essere un cardine, una guida, visto tutto quello che hai dovuto passare, in tal senso ti portiamo i complimenti e gli auguri da parte di tutti. Domani cosa sarà per l'Epre? Hai progettato, pianificato, sei tornato a pensare al domani? Mi godo il momento, mi godo il ritorno perché era fondamentale, questa è la mia vita, quindi diciamo che se non vivo di calcio era quello più che altro la mia priorità. Poi il domani vediamo, ho un bambino da crescere quindi è la prima cosa essenziale. Poi è arrivata la mazzata della cessione di Guain. Da Napoletano sì, dai. E della sconfitta, oggi è una giornata. Quindi oggi da cancellare, dai. Pensiamo a domenica prossima, dai. Senti, prima di parlare di domenica prossima, per chiudere, fissa un obiettivo per tutto il cavistrello. No, bisogna, ti ho detto, bisogna lavorare... Più concreto? Più, ah, playoff? No, dai, dai, pensiamo prima alla salvezza, poi dopo la salvezza ci pensiamo. Ci ho provato. Grazie. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del Telegiurale la potete rivedere integralmente sul nostro sito www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avesano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie dell'attenzione. A risentirci. Grazie. Grazie.